Io mi chiamo Marino Sossi, sono secondo le leggi vigente, candidato sindaco di Sinistra per Trieste che ha all'interno della lista civica il progetto di far rinascere Sinistra italiana e quindi è un progetto complessivo che parte sia a livello locale che a livello nazionale. Ho fatto il consigliere comunale per 5 anni come Sinistra Ecologia e Libertà e sul fatto che Sinistra Ecologia e Libertà appunto si è sciolta, di fatto si sta sciogliendo lo canto del salamento e il nuovo progetto Sinistra Italiana, ho pensato insieme a una parte di Sinistra Ecologia e Libertà di rifondare una lista civica e di far partire anche questo progetto di Sinistra per Trieste, assieme al deputato ex Movimento 5 Stelle, Aris Prodani. Noi ci siamo trovati su un punto fondamentale che è il punto legato al superamento dell'aria caldo come era nel programma della coalizione di Cosolini nel 2011, quindi demolizione e riconversione industriale di quell'area. Ci siamo trovati appunto con il deputato Aris Prodani che ha fatto anche tutte le battaglie assieme al sottoscritto che ha presentato numerose emozioni, purtroppo il più delle volte bocciate anche dai colleghi della maggioranza che avevano inteso non rispettare il programma iniziale della coalizione, che parlava in maniera specifica di questo. Quindi noi siamo convinti che è importante assolutamente andare a votare il 5 giugno e andare a votare anche chi ha deciso per tutto questo tempo di non votare più, perché è probabilmente schifato, stanco, deluso dalla politica e da quello che vede in politica. Questa lista che mi vede come candidato sindaco tenta appunto di riformare questo dato della politica, subrando una volta preso atto che il Partito Democratico è diventato un partito di centro-destra e quindi c'è la necessità assoluta di rifondare una situazione a sinistra che sia degna di questo nome.